Una candidatura che unisce un po' le anime del PDL, anche se comunque si prospetta una sfida difficile, vero? Sì, si prospetta una sfida difficile, soprattutto perché c'è una grande esigenza di cambiamento da parte del territorio, ma naturalmente noi questa esigenza forte dobbiamo essere in grado di saperla cogliere. Credo che il programma che presenteremo e la squadra che presenteremo sapranno essere all'altezza, ma è una sfida e comunque non sicuramente facile. Un primo obiettivo è stato riaggiunto, quello di riunificare tutte le anime del centro-destra, non solo del PDL, ma soprattutto di tutto il centro-destra. E' nello stesso tempo quello di creare però una squadra aperta anche a persone di altre appartenenze politiche o a persone che non si sono mai interessate della politica. Di questo primo obiettivo sono davvero già soddisfatta, adesso naturalmente bisogna proporsi al territorio. Ma la candidatura di Leone in un certo senso potrebbe dare qualche problema? Lei pensa che magari potrebbe anche rientrare, nel senso che potrebbe anche rinunciare a correre da solo? Beh, ogni candidatura ovviamente in più è un problema. È chiaro che se fossimo l'unica lista e l'unica proposta non ci sarebbero problemi, quindi è chiaro che è così. Naturalmente si tratta di una persona che abbiamo invitato a far parte della nostra lista. Non ha accettato, ne prendo atto. Per il resto si tratta di una proposta a questo punto evidentemente differente, molto differente dalla nostra. La squadra è già pronta, quindi ormai credo che il tempo massimo sia stato già ampiamente superato. Peraltro riteniamo non indispensabile l'apporto, visto che comunque siamo riusciti a preparare una squadra composita, fatta di tantissime esperienze di tipo diverso e un programma che la gente si aspetta. Il territorio ormai l'apprezza per il suo attivismo, per la sua professionalità, la sua competenza, ma in realtà se l'aspettava questa proposta di candidatura? Questa è una domanda difficile, nel senso che sicuramente me lo aspettavo, sicuramente lo sentivo, sentivo la richiesta della gente, la richiesta dei miei amici, del gruppo politico ed umano con il quale ho fatto sempre politica. Ma naturalmente, considerando il mio ruolo qui in provincia, in qualche modo ho tentennato un po' prima di accettare questa proposta, perché naturalmente se dovessi poi anche ricoprire la carica di sindaco, ovviamente per far bene entrambe le cose, dovrò davvero tenere impegnata oltre le 24 ore della giornata. L'impegno comunque non mi spaventa, sicuramente sarò eventualmente supportata da uno staff, così come sono supportata qui in provincia, quindi non ho potuto dire no al mio cuore, non ho potuto dire no ai miei amici, alla gente che mi ha sempre sostenuta. In bocca al lupo! Crevi!